Le grandi donne del risorgimento. Via via che si studia la storia in maniera indipendente dalle accademie e senza il filtro dei dogmi patriarcali, appare sempre più evidente la grave e sistematica omissione, nella narrazione ufficiale, di tutte le figure femminili che hanno contribuito, nel piccolo e nel grande, alla creazione della storia stessa. Fatta eccezione per le donne che hanno subito azioni che stimolano la morbosa, avuairistica fantasia mediatica, quali Giovanna d'Arco, per il suo processo terminato con il rogo, o Artemisia Gentileschi, grande pittrice seicentesca, ma sicuramente non la sola grande pittrice donna dei secoli tra il XV e il XVIII. Artemisia, che però godete di un poderoso supplemento di fama dovuto al processo per stupro che la vide protagonista anche di torture per obbligarla a ritrattare l'accusa da lei fatta all'aiuttante di suo padre. L'approccio, diciamo, scandalistico, rimane anche per le donne che hanno fatto il risorgimento e sono state realmente militanti e politiche nelle vicende che hanno portato alla creazione dell'Italia. Delle tante donne importanti di quel periodo, la storia patriarcale ricorda, naturalmente con dovizia di particolari scabrosi, solamente Virginia Olduini, contessa di Castiglione, la cui disinvolta attitudine amorosa contribuì a portare l'esercito napoleonico in aiuto del nascente Stato italiano contro l'Austria. Cavour, cugino di Virginia, seppe sfruttare ad hoc l'infatuazione che Napoleone III aveva sviluppato per lei, consigliandole di assecondarla per poter chiedere in cambio il grande favore del sostegno militare. Ma, accanto a Virginia Olduini, vi sono tante altre donne che hanno lavorato seriamente per fare l'Italia e che non compaiono nei libri di storia né nei canali YouTube di stampo scandalistico perché hanno usato mezzi meno stimolanti per la fantasia di chi legge o ascolta. Per esempio, la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, seria e impegnata intellettuale che finanziò di tasca propria i moti e il trasferimento via nave dei volontari che dai quattro angoli della penisola giungevano in aiuto di Milano e di Venezia per cacciare gli austriaci. Di Cristina, la Scuola delle Donne offre la lettura del resoconto storico Il 48 a Milano e a Venezia, il cui link lasciamo in descrizione. O come la Marchesa Anna Schiaffino Giustiniani, amica di Cavour e poi da lui abbandonata e morta suicida. Anna fece parte della carboneria, sovvenzionò giornali e animò uno dei più fervidi e attivi salotti filo-repubblicani dell'Ottocento, svolgendo attività di matriota con raccolta di fondi e propaganda fra le personalità simpatizzanti della giovane Italia mazziniana. Fu nel salotto di Anna che il giovane e ambizioso Cavour conobbe coloro che sostenevano l'Italia Unita. Cavour non esitò a legarsi, diciamo, di una cara amicizia con la Marchesa Giustiniani e ad approfittare delle sue importanti conoscenze per poi scaricarla una volta ben avviato autonomamente il suo obiettivo politico. O come la coltissima principessa Enrichetta Caracciolo di Forino, vittima di monacazione forzata, che ha raccontato nella sua autobiografia Misteri del Chiostro Napoletano, che a breve leggeremo per il nostro canale YouTube, chiostro dal quale riuscì a uscire battendosi con grande coraggio. Scrive Francesca Di Caprio in Enrichetta Caracciolo Forino, già suora Garibaldina scrittrice, Enrichetta si guadagna la sua libertà con una lotta ostinata, coraggiosa, senza cedimenti, che apre prospettive in grado di modificare la società futura mostrando come la cultura e la scrittura possano diventare un'efficace arma di propaganda. Il codice civile dell'epoca consentiva ai genitori di obbligare le figlie a prendere i voti, cosa che, come sappiamo, veniva puntualmente praticata per motivi di eredità e di dote. Per diversi anni Enrichetta continuò a presentare istanze al Papa per ottenere lo scioglimento dei voti o una dispensa temporanea per motivi di salute, richiesta che veniva puntualmente negata. Enrichetta fu profondamente conscia dei grandi cambiamenti in atto, cambiamenti su cui si teneva informata grazie ai giornali che la famiglia le faceva arrivare in convento. La sua simpatia per la rivoluzione, però, la rendeva bersaglio di asper critiche da parte delle altre suore. Finché, nel 1848, dopo nove anni di reclusione, il Papa le accordò l'uscita dal monastero, con obbligo di lasciare però al suddetto tutti i suoi beni. Ma la sua vita rimase difficile, fu incarcerata, condannata a una clausura intollerabile per altri tre anni, prima di poter realmente essere libera dai voti e dai nemici della sua famiglia, che la perseguitavano per le sue simpatie politiche. Entrò a tutti gli effetti nella rete cospirativa, sposò un patriota napoletano e, finalmente libera, si dedicò, a 39 anni, alla stesura delle memorie del convento, in forma di denuncia, ricordando l'opera di un'altra monaca forzata e ribelle, Arcangela Tarabotti, autrice dell'Inferno Monacale. Lo scandalo fu enorme e Enrichetta fu scomunicata per aver raccontato la verità su ciò che succedeva nei monasteri e nei conventi. Divenne corrispondente per alcuni giornali e scrisse altre opere, tra cui un proclama della donna italiana, per invitare le donne a sostenere la causa nazionale. Fu attivista per i diritti civili e politici delle donne. Malgrado il suo istancabile impegno e il coraggio nel mantenersi coerente e fedele ai suoi ideali, nonostante le difficoltà e la prigionia, la principessa Enrichetta Caracciolo, che aveva creduto ciecamente nelle possibilità femminili, non ebbe nessun riconoscimento ufficiale dal governo italiano. Gli oggetti di sua proprietà rimasero sotto sequestro e lei, ormai vedova, visse i suoi ultimi anni in solitudine e con pochi mezzi, ignorata da tutti. Oh come la coltissima Giuditta Bellerio Sidoli, la donna amata da Mazzini! Cito da Giuditta Sidoli di Simonetta Ronco Pur senza negare che la maggior parte del pubblico conosce questa donna del Risorgimento in quanto fu la donna amata da Giuseppe Mazzini, occorre sottolineare il fatto che la rivestì un ruolo cardine nel percorso risorgimentale anche prima e al di là della sua liaison con Mazzini. In Svizzera prima e in Francia poi, Giuditta divenne un punto di riferimento per tutti gli esuli italiani che in lei trovavano la forza, la serenità e la costanza. Quando il marito Giovanni Sidoli morì di tubercolosi, Giuditta aveva 24 anni, si ritrovò vedova e sola a combattere contro la famiglia del marito che simpatizzava per gli austriaci e che voleva l'affidamento dei figli. Poteva scegliere di restare accanto ai suoi figli e ai suoceri a Palazzo Sidoli oppure consacrarsi alla causa dell'Italia Unita. Scelse la seconda opzione e per questo rinunciò agli agi e i figli le furono sottratti. Sorvegliata, perseguitata e infine costretta all'esilio, Giuditta iniziò da sola il percorso della lotta patriotica adoperandosi con tutte le sue forze per sostenere i moti insurrezionali. Giuditta entrò nei più alti livelli di cospirazione e di organizzazione rivoluzionaria. Divenne la compagna di Mazzini, la sua confidente, ispiratrice, sostegno psicologico e madre di suo figlio. Mentre compiva missioni politiche, organizzava incontri nella sua casa e sosteneva i ribelli. Non smise mai di cercare di rivedere i suoi figli che una volta cresciuti, per fortuna, si riunirono a lei. Come altre coraggiose donne ribelli, tra cui ricordiamo Sibilla Leramo, anche Giuditta sperimentò la lacerazione tra l'essere madre e l'essere attivista e indipendente. Il suo corpo senza vita fu trovato mentre stringeva nella mano un'ultima lettera a Mazzini. Il nome di Giuditta Sidoli, scrive Lucetta Scaraffia in Sidoli Giuditta, è stato sacrificato per permettere al mito di Mazzini di affermarsi senza ombre. L'eroe doveva apparire pallido e mesto, interessato solo all'unità d'Italia, alla democrazia, triste e perseguitato dall'incomprensione dei più, soprattutto solo, come un'eremita, che ha rinunciato a tutto per l'ideale. Certo non amante e riamato di una donna coraggiosa e combattiva come Giuditta e padre di un figlio illegittimo. In conclusione, vogliamo leggere una pagina da La donna che osò amare se stessa, indagine sulla Contessa di Castiglione, di Valeria Palumbo. Nell'elenco dei protagonisti del risorgimento che il cimitero monumentale di Torino offre ai visitatori, compare una sola donna, Giuditta Bellerio Sidoli. È sepolta sempre nel recinto della prima ampliazione, quasi all'ingresso a terra, con una lapide ormai sbiadita. Un cartello dei servizi cimiteriali ne ricorda rapidamente la dedizione alla patria e ai figli e l'amicizia affettuosa con Giuseppe Mazzini. Ma da una descrizione così vaga non traspare nulla di quello che per le sue idee dovette pagare, compreso il sequestro dei suoi quattro figli da parte del suocero. Sequestro legale. La legge non prevedeva che una madre avesse la potestà su di loro se non in casi eccezionali. Figuriamoci se era una ribelle. Giuditta è stata una donna straordinaria. Nessuno si chiede se i suoi sacrifici siano serviti a qualcosa. Lo sottolineo perché invece ci si continua a chiedere quanto sia servita l'azione di Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione. Resta la scoperta camminando nel cimitero che la discriminazione verso le donne resista perfino sulle lapidi. Proprio dietro la tomba di Giuditta Sidoli, per esempio, c'è quella di Anni Vivanti. Lei stessa fu scrittrice, giornalista, instancabile sostenitrice della causa indipendentista dell'Italia e dell'Irlanda. Fu anche la prima donna a scrivere degli stupri durante la Prima Guerra Mondiale. Ma tutto questo sulla sua lapide non c'è. Ci sono, invece, i versi di Giosuè Carducci, quelli per cui è ancora oggi debolmente ricordata nelle scuole. Batto alla chiusa imposta con un ramicello di fiori glauchi e azzurri come i tuoi occhi, Oannì. Quindi, non come giornalista intellettuale, ma come poetessa, tra virgolette raccomandata, amante di un Carducci ormai vecchio. Ecco, questa frase di Valeria Palumbo ci porta a considerare la quantità di donne artiste e attiviste le cui lapidi le ricordano solo come mogli, madri, muse o modelle di eroi della storia patriarcale. Grazie. 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 Grazie.